11-3, 10-12, 11-8, 13... Chi saprà sfruttare meglio questa conoscenza? Al servizio Nicoletta, 1,70 per 52 kg, la sua 48esimo posto, la ricordiamo due volte, Saria, intanto vediamo alla battuta C-Rong, 23 del mondo, ora nazionalità italiana, dunque possiamo dire fin da queste prime battute della quarta, però si è dimostrata validissima avversaria, abbiamo detto dell'equilibrio nella Tive della Champions League, la squadra è guidata dal tecnico Tartalino, 12 scudetti ma anche il campo maschile, ben 4 set point per Nicoletta Sepanova che comunque ha un... Stupendo il bordo del tavolo, un po' la sua avversaria, ...e alla fine... ...assimo con una finta, imprendì la seconda partita... ...in avanti, è sempre un po' in recupero la Stefanova... ...solo la partita ma anche l'intero braccio di ferro con Castello... C-Rong... ...finisce il colpo, qui davvero sta... ...è sicuramente più esperta e un pizzico anche più brava... Ancora appeso... ...di aprire un discorso che sembrava irrimediabilmente chiuso... ...ottimo rovescio della Stefanova ma è altrettanto efficace... ...abbiamo visto prima C-Rong rispondere sempre bene ai servizi... ...in vantaggio... ...e qui sembra un muro C-Rong... ...prende tutto, anche questa palla era... ...5 a 4 C-Rong... ...un parziale... ...veramente devastante... ...viata l'inerzia della partita... ...Stefanova sembrava... ...più in... ...gara rispetto ai primi due... ...c'è 5... ... dunque... ...5... ...e finisce qui l'ultimo parziale... ...11 a 6... ...quindi 11 a 7... ...11 a 8... ...11 a 6...